L'Alessandria è ora più vicina e quindi anche la vetta della classifica per la Cremonese che ha battuto 2-0 il Siena con una prestazione all'altezza della situazione. Era un'occasione da non poter fallire dopo aver assistito alla sconfitta dei Grigi in casa con la Gianna, serviva la migliore Cremonese per regolare una squadra che aveva già fatto vittime eccellenti come l'Alessandria appunto e come il Livorno. Tesser sceglie di cambiare per far rifiatare alcuni dei soliti interpreti, del resto ci sono quattro partite in due settimane e sarà quindi necessario l'apporto di tutti. Si rivede Porcari davanti alla difesa e Redolfi terzino sinistro, Moro sostituisce l'infortunato Bellingheri e in attacco a far coppia con Brighenti c'è Scappini e proprio l'attaccante Umbro sarà il protagonista di giornata ispirato dagli assist di Perrulli. Impressionanti i numeri di questi due giocatori, Scappini 9 gol in stagione, uno ogni 129 minuti giocati. Perrulli 11 assist vincenti e un gol in stagione. Ma veniamo alla cronaca della partita con la Cremonese che parte Guardinga cercando di non lasciare campo agli avversari. La prima vera occasione arriva al minuto 22 del primo tempo con un tiro dalla distanza di Perrulli che viene parato da Moschin. Il Siena si rende pericoloso al 29esimo ma Redolfi salva tutto e mette in corner. Poi tutta Cremonese, Moro serve in velocità Scappini ma il suo tiro debole impreciso. Una punizione di Perrulli dalla destra per la testa di Scarsella ma è pronto Moschin che para a terra. Sono solo le prove generali perché in chiusura di tempo arriva al vantaggio con Scappini che di testa devia in porto un cross perfetto di Perrulli e quattro minuti dopo il raddoppio ancora Scappini che trova il diagonale vincente che supera Moschin. Il primo tempo termina con la Cremonese in vantaggio per 2 a 0. Nella ripresa il Siena continua ad attaccare e la Cremonese si difende con ordine rischiando solo in un paio di occasioni. Una punizione di Marotta che sfiora la traversa e una uscita di Ravaglia che lascia porta vuota. Steffè va al tiro al colpo sicuro ma Marotta è sulla traiettoria del pallone che finisce fuori. Termina 2 a 0 e ora l'Alessandria a meno tre ma sulla strada della Cremonese arriva il Como martedì sera 20 e 30 a Stadio Zini.